L'US Agropoli mantiene la vetta della classifica vincendo 5 a 0 contro il Faiano. Dopo 50 secondi subito in vantaggio i padroni di casa, sgroppata sulla destra di Yeboah e inspaccata, margiotta, deposita, porta sguarnita. Al terzo arrivava già il raddoppio, questa volta l'assist era di matrone, palla a rimorchio per Natiello che insacca nell'angolino destro. Al decimo si vedono gli ospiti con Russo Mando, destro deviato in corner da Pragliola. Quindicesimo assist di Yeboah per una bella torsione in tuffo di Margiotta, palla sul palo. Al ventesimo occasionissima per l'Agropoli, sgasa Monzo sulla sinistra e Margiotta di testa manca il gol del 3 a 0. Il Faiano si rivede un minuto più tardi con Mazzotta in contropiede para Pragliola. Ventiduesimo tiro a giro di Yeboah, fuori di pochissimo. Al ventisettesimo colpo di testa ospite con De Maio, palla all'angolino ma provvidenziale. Pragliola. Al quarantesimo l'Agropoli cala il tris con Natiello, rasoiata dal limite imprendibile per senatore. Quarantatresimo e sono quattro. Splendido assist di Masocco e Margiotta. Non può sbagliare in acrobazia al centro dell'area. Agropoli, Stradipante e al quarantaquattresimo arriva il quinto. Bella combinazione sulla destra e per Masocco è un gioco da ragazzi depositare con una rasoiata alle spalle di senatore. Sul 5 a 0 finisce il primo tempo. Secondo tempo la prima occasione si registra al sessantaduesimo. Colpo di testa di Alba, fuori di oltre un metro. Al sessantaseiesimo rasoiata di Irpino, palla sul fondo. Un minuto dopo ancora l'esterno argentino di Cianfrone. A seguito dell'ennesimo sfondamento da destra ci provava. Conclusione di interno piede. Blocca senatore. Settantaquattresimo conclusione dal limite di Vitelli, subentrato ad inizio ripresa nelle rotazioni di Cianfrone. Palla fuori. Al settantottesimo sempre Agropoli in avanti con un tiro di interno piede di Emanuele Maiese. Fuori di molto. All'ottantacinquesimo tiro centrale di Vitelli. La blocca senatore. Nel finale spazio ancora per la punta cilentana che non riesce a trovare la porta nonostante un bel diagonale. Dopo i due minuti di recupero finiva dunque con il Roboante 5-0. Una sfida che dal primo minuto non ha avuto mai storia.